In edottornei di Modena abbiamo presentato quelle che sono le iniziative dell'Università di Modena di Reggio Emilia in collaborazione anche con altri atenei italiani, in particolare in riferimento all'innovazione della dotazione tecnologica delle aule e ai vari percorsi di didattica innovativa utilizzando le tecnologie, dalla didattica blend, dalla didattica online fino alla digital education, fino alla open education che è l'ultima frontiera su cui ci stiamo confrontando in questo momento cercando di pubblicare corsi e percorsi formativi aperti, gratuiti e online per tutti.